Anche al Comune di Gela è possibile sottoscrivere la proposta di legge d'iniziativa popolare sulla legittima difesa e la violazione di domicilio. Il testo prevede il raddoppio delle pene per la violazione del domicilio e l'esclusione da responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora, oltre ad ampliare la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell'eccesso colposo. È possibile aderire alla proposta di legge recandosi all'ufficio elettorale per la sottoscrizione dei moduli di adesione. Una proposta di legge è portata avanti da Italia De Valori ma che serve a tutelare quel luogo dove noi ci sentiamo forse più sicuri, che è proprio il proprio domicilio. Fino adesso viene considerata la strega di un luogo pubblico ma sappiamo che non è così. La casa è il nostro rifugio, è dove cerchiamo protezione e tutela ed è il nostro sagrato dove non è giusto che qualcuno possa entrare impunemente. E noi per giunto subirne le cause. Quindi con questo disegno di legge si porta finalmente ad inesprire le pene per chi è che viole il domicilio. Non si pagheranno più i danni per chi dovesse proprio volare il domicilio e poi si fa male. Quindi oltre il danno la beffa, si viene condannato a risarcire i danni a chi è che viene a casa nostra se si dovesse fare male. E terzo, il punto forse molto importante, quello che non ci saranno più reati e nemmeno condanne per chi difende il proprio domicilio da un'infrazione. Anche perché ci sono situazioni istantanee, naturali che sono fuori dagli schemi normali. Uno che si trova la notte un ladro dentro casa, la reazione non sa nemmeno com'è. E certe volte può essere anche drammatica ma sicuramente non l'ha cercato il proprietario della casa. Quindi ritorniamo a stabilire dei concetti fondamentali, che la legge sia uguale per tutto ma anche la propria abitazione credo che sia un luogo inviolabile. E quindi questo disegno di legge serve proprio per cominciare a dare quelle sicurezze di cui i cittadini hanno bisogno. La petizione è attiva negli orari di ufficio e gli interessati dovranno presentarsi muniti della carta d'identità.